No, Gio, non farlo! Piuttosto che la solita minestra, io mi punto dalla finestra! Guarda, ti abbiamo portato la zuppa del casale! E che cos'è? La novità della Findus per fare una zuppa di legumi e cereali come quella di una volta! C'è anche l'orzo? Sì, il parro, i ceci, i fagioli! Si, vi avete convinto! Portatemi giù! Che buona e come tensa! Ehi, mi avete sentito? O la solita minestra o zuppa del casale, nuova da Findus. Ehi! E un attimo! Grazie!